L'ultimo vino dell'azienda CONIC che presento è la riserva del 19. Nel vigneto dell'azienda abbiamo una parte del vigneto che ha delle piante più anziane, più vecchie che portiamo in una maniera particolare con una carica di frutta molto più bassa, al quale ricordiamo questo vino. Lo apriamo, perché per assaggiarlo bisogna raperlo. Ok, si vede subito di tal colore che l'intensità è superiore a una profondità, perché il colore è molto superiore al classico ovviamente, essendo uve più concentrate. Il vino sosta per circa 12 mesi in Pekono, in Pekono, l'overe francese, la maggioranza nuove. Si presenta a casa con queste note molto più speciali, molto più di cacao, di vaniglia, di caffè, di caninella. Comunque è un modo di specie bovici, specie non piccanti. L'equilibrio con l'impegno è molto molto buono. Si sente affinamento nel legno, ma senza che redomini sul frutto. La buca è molto più setosa, lunga, persistente, con un volume maggiore, classico ovviamente. La cosa che mi piace molto è questo suo essere quasi un vino del vecchio mondo. Ha più delle caratteristiche al vino europeo che non al vino argentino. con queste note un po' più evolute, un po' più terziarie del vino. Sicuramente un vino da versi nei prossimi 10-15 anni senza nessun frutto. Salute a tutti!